Ed ora è il momento dell'incontro valevole per la cintura regionale full contact categoria fino a 75 kg arbitra il signor Marco Pacor e chiamiamo sul ring all'angolo blu da Sezze Romano Mauro Todi E' lo sfidante alla cintura regionale 75 kg Mauro Todi Ed ora sale sul ring il campione regionale in carica da Roma Daniele Esposito Daniele Esposito Daniele Esposito Ricordiamo ancora questo incontro è valido per la cintura regionale full contact 75 kg 3 round da 2 punti arbitra il signor Marco Pacor all'angolo blu per il team Pierotti accompagnato dal maestro Emanuele Pierotti da Sezze Romano lo sfidante alla cintura regionale Mauro Todi all'angolo rosso per il team 2K di Roma accompagnato sul ring dal maestro Lorenzo Pezze il campione regionale in carica Daniele Esposito giochi rovin' in a hella deep added to a mezzanine Dressed in all pink except my gator shoes those a green drink and I look for mink girls standing next to me probably should've wash this smells like aunt Kelly sheets piss Sì È la prima ripresa 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 Fuori i secondi È la prima ripresa 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 Fuori i secondi È la prima ripresa 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 È la prima ripresa